Anticipazioni Bittersweet, trama puntate, martedì 20 agosto 2019. Nashly dopo aver riflettuto sulle parole del padre, chiama Ferit e gli dice di non farsi vedere più perché non vuole assolutamente sposarlo. Laszla si reca in fretta e furia al suo ristorante e la ragazza gli spiega che non può affrontare il rischio di perdere la sua famiglia per via di un matrimonio senza amore. Così l'architetto decide di mettersi in collegamento su Skype con il papà di Nashly, al quale rivela che si tratta di un modo per ottenere l'affidamento di Bulut. Il padre si ammorbidisce capendo che si tratta di una strategia per salvare il bambino e dà in un certo senso il suo benestare per le nozze. Il giorno del matrimonio arriva e poco prima di andare a sposarsi, Nashly decide di andare in una pescheria per fare un ordine. Dennis la sta seguendo ed è proprio in quel frangente che si fa viva Demet. Grazie a tutti! Grazie a tutti.